Ci sono sviluppi nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha portato due giorni fa i carabinieri della Compagnia di Pentone, con un'ordinanza in mano, firmata dal GIP del Tribunale, a mettere i sigilli al Pala Sant'Elia. Il sostituto procuratore Graziella Viscomi ha iscritto nel registro degli indagati Antonio Alfieri, gestore dell'impianto, a carico del quale si ipotizzano i reati di apertura abusiva di pubblico spettacolo e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Secondo le ipotesi di accusa, Alfieri, dal 2014 in poi, avrebbe tenuto aperto il Palazzetto dello Sport, organizzando e consentendo l'espletamento di partite di calcio a 5 della squadra Stefano Gallo 79, senza aver rispettato le prescrizioni dell'autorità pubblica, in assenza dei certificati di prevenzione incendi e di agibilità. L'uomo, inoltre, avrebbe violato i decreti del sindaco del comune di Pentone, con i quali venivano sia autorizzate le gare sportive, ma a porte chiuse. In qualità di gestore del Pala Sant'Elia, Alfieri avrebbe omesso di adottare i doni e misure per tutelare l'incolumità dei lavoratori, utilizzando l'impianto per lo svolgimento di competizioni sportive per gli allenamenti della squadra, anche con la presenza di pubblico e quindi con notevole incremento del rischio, senza essere dotato del certificato di prevenzione incendi, certificato mancante sin dal luglio del 2013, quando l'amministrazione comunale di Pentone ha concesso in gestione i locali, ponendo quale obbligo a carico del gestore, quello di farsi carico delle spese necessarie per l'ottenimento del CPI, prevedendo poi che le stesse fossero defalcate dal canone annuo di locazione dovute all'ente.